Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video sul mio canale, come vedete oggi giochiamo a Happy Wheels, anche oggi con la camera, ad ora in poi farò un sacco di video con la camera, oggi, oggi, oggi proviamo a essere un pochino più bravi, infatti oggi farò tutti i livelli difficili. Scherzavo, iniziamo con Reason Pong, che mi piace il nome, sapete com'è, cosa devo fare? No, epico ma, ecco, what the fuck is this? Ma non ha senso perché, e ce la fa? Ah, no, ci sono, ah, ok, ci sono quattro livelli, allora, credo che l'obiettivo sia quello di far passare la palla in quel piccolo fore, ah, ole. Eh, ok, ci sono quattro livelli, due li ho già fatti, adesso faccio anche il terzo, sì. Eh, non è facile perché io non controllo la pallina, io controllo soltanto i suoi salti. Infatti, destra e sinistra non posso scegliere, no. Niente, ma, mi ha gerato le palle, posso dirlo che mi ha gerato le palle? Certo che posso dirlo. Exit to menu. Allora, facciamo, facciamo, facciamo. Eh, Pogo, Force Field. Ah, è impossibile. Vediamo un po'. Ah, devo uscire. Certo che ce la faccio. Ah, ce la fa! Ce la fa, senza gambe però ce l'ho fatta, dai. Tecnicamente dovrei essere un... Un genio del male, ma sì. Facciamo un... Mmm... Sword Throw. Allora, allora, allora. Ammazziamo. Eh, stavo per fare una combo. What the fuck I'm doing? Ok. Ah, bastava buttare... No! Aspetta. Sì. Allora, riproviamoci. Dai, un video così non posso non riuscire a... Cioè, un video, un... Un livello così non posso non riuscire a farlo. Ah... No, fermi un attimo. Facciamo economia. Se io riuscissi a prendere una spada soltanto... Ok. È disegnata a lui, mi dispiace. E riuscissi a... Fuck. No, devo fare economia, ragazzi. C'è crisi. Ok. Ecco. L'economia è quella di uccidersi a vicenda. Soprattutto suicidarsi. Oh, sì, questa è economia. Questa magari no. Ok. No. Perché ne prendi due alla volta, brutto scemo unito di merda? Prendiamo a lui. Ma sì, ce la possiamo fare. Sì. Babbo Natale. Olè. Grazie, grazie. Sì, lo so. Ok, questo era semplice, devo ammetterlo. Anche per me. Eh, ci sono delle cose semplici. Eh, impossible jump. Mi piacciono le cose impossibili. Ma non è niente di così impossibile. È un semplice pogo... Pogo? Come si chiama? Vabbè, le gare di pogo. No. Per adesso non è stata abbastanza... Cioè, è stata abbastanza semplice. Contando che... Oh, cazzo. Contando che le faccio sempre, questi livellini. So, so per certo che arriverà il momento in cui... Ecco, non riuscirò più a farlo. Adesso per colpa mia, perché ancora è possibile. No. Ok, so quale metodo devo usare. Vediamo un po' se funziona. Allora, innanzitutto adesso saltiamo questo. Davvero. Si è veramente spaccato la testa. Calmi. Calmi, si può risolvere. Si può risolvere. Per io ci riprovo. Dai, che cacchio. Ci riprovo. Ci riprovo. Aia. Aspetta un attimino. A proposito, a proposito. Ho risolto. Ho credo di aver risolto il problema di action. Di mi release action. Di programma. Allora, vi spiego la situazione. Ultimamente, per registrare i video pesanti, quali Minecraft e Hitman, stavo utilizzando Dxtory. Perché? Perché, anche se con mi release action si lagga di meno, anzi si lagga quasi niente, avevo dei problemi con l'audio. Infatti, chi di voi seguiva i miei video se ne è accorto, grazie per la segnalazione, anche se è un po' in ritardo, vabbè. Se ne è accorto, l'audio si sentiva di merda. Cioè, proprio, si sentiva tutto a pezzi. Si sentiva completamente disturbato, non lo so. E quindi avevo dovuto cambiare software di registrazione. E mi release action lo utilizzavo soltanto per registrare i video leggeri, come Happy Wheels, il gioco che sto registrando adesso. Infatti, tuttora sto usando action. Questo perché? All'inizio non lo sapevo. Non sapevo il perché. Allora, perché volevo aggiustarlo? Innanzitutto perché si lagga di meno. E poi, mi release action ha una funzione molto interessante, che è quella di poter registrare, oltre al gameplay, anche una webcam. Ok. Quello che sto facendo adesso, senza doverla inserire in fuzzity editing, e quindi senza dover sincronizzare l'audio con il video, è già tutto pronto. Nel tanto cambio gioco perché mi hai rotto le palle. E niente, quindi dovevo assolutamente aggiustarlo, così da poter mettere la camera in molti più giochi. Ieri mi sono messo d'impegno, e alla fine ho trovato il problema. Non ho credo di aver trovato il problema. Praticamente Windows aveva attribuito al programma una priorità bassa, il che vuol dire che assegnava pochissime risorse al programma, e nei giochi pesanti come Hitman oppure Minecraft, laggava la voce. Perché? Perché non aveva abbastanza risorse per registrare l'audio e il video. Tra l'altro Minecraft, come sapete, è molto pesante, quindi... E niente, mi è bastato impostare la priorità dal task manager, cioè dal task manager, cliccate il tasto destro sul programma, poi mettete in posta priorità, una cosa del genere, e mettete priorità alta oppure normale, oppure può essere più del normale, altissima, non mi ricordo. Comunque, mi ho dato priorità alta, ho registrato e si sentiva perfettamente. Quindi da adesso credo che anche Minecraft avrà questa, avrà la mia faccina. So che non mi interessa niente, però, credo che sia una cosa abbastanza interessante vedere la faccia dello youtuber, soprattutto perché voglio iniziare gli horror. E gli horror senza camera, non sono horror. Cioè, alla fine, le persone che vanno a vedere gli horror nei canali di YouTube vanno solo per vedere la reazione dello youtuber, e soprattutto per prenderlo per il culo. Vero? Bastardi. Quindi niente, allora, facciamo, facciamo, facciamo. Can you survive? Dai. Ok, prendi lui. Lol. Ehm, sono sopravvissuto. Ehi, voglio... Voglio la mia vittoria. Non mi vince. Nooo. Ok, andiamo avanti. L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Cosa facciamo? Ok, impossibile. 100% impossibile. Oh, merda. Eh, sì? Porca puttana! Ma... Ah, ok. Sì, ok, lo so che devo... Ehm... 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 Ma porca puttana! Ho vinto! Non so come ma ho vinto! E con questo chiudo la puntata, perché con una vittoria si chiude la puntata sempre, sempre in alto. In alto, non sei qui. Sono rivolto al Signore. Amen. Ok. Io sono Spiegaramontato. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi, condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google+, o sul mio sito spiegaramontato.ml, o su Facebook, digitando facebook.com slash spiegaramontatoofficial. Vi consiglio di seguirmi su Facebook, perché metto molto spesso le notizie riguardo al canale, riguardo ai video e a delle sorprese. Quindi vi consiglio di seguirmi su Facebook, su Twitter e su tutti i social connessi al mio canale, compreso Google+. Io sono Spiegaramontato. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video qui sul mio canale. Ciao! 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 Ciao!